Ducatista! Sei alla ricerca della tua prossima rossa di Borgo Panigale? Moto Argento è il concessionario specializzato in moto super sportive e hyper naked, con oltre 2000 metri quadrati di showroom e più di 300 moto in esposizione. Prepariamo ogni moto per esaltarne le prestazioni, l'assetto e la livrea in base alle tue preferenze e al tuo stile di guida. Ogni moto è garantita per 5000 km sul materiale di usura e 12 mesi su ogni componente meccanico ed elettronico. E se prima devi vendere la tua moto attuale, con Moto Argento puoi salutare la tua compagna d'avventure senza stress e perdite di tempo. Come puoi entrare nel paradiso delle moto super sportive e hyper naked di Moto Argento? Richiedi il kit informativo gratuito e senza impegno Ducatista Full Optional!